10 anni di solidarietà per l'infanzia grazie alla serata di beneficenza organizzata per iniziativa del Cardinale Crescenzio Sepe, arcivesco metropolita di Napoli, in sinergia con la RAI e con la generosità di tanti. Quest'anno appuntamento per il 9 dicembre alle ore 19 nell'auditorium RAI di Napoli, dove l'asta di beneficenza, che vedrà le donazioni del Presidente della Repubblica, degli enti regionali e comunali e di tanti privati, si terrà nell'ambito dello spettacolo Ritmo e Passione, che vedrà protagonista Tullio De Piscopo. L'evento è stato presentato in curia durante la conferenza stampa moderata da Enzo Piscopo, direttore del periodico diocesano Nuova Stagione, alla presenza del Cardinale Arcivescovo, del Vescovo Ausiliare Monsignor Salvatore Angerami, del responsabile per la cultura Don Adolfo Russo, con il direttore del centro di produzione RAI Francesco Pinto e l'artista Veronica Mazza. Due gli obiettivi di quest'anno, un ecografo di alta fascia per l'ospedale Cardarelli e una autoambulanza attrezzata di emergenza neonatale per il secondo policlinico. Ascoltiamo il Cardinale Arcivescovo e Veronica Mazza, che condurrà la serata con il comico Mariano Bruno. Questi due progetti, ecco, questa autoambulanza che è veramente necessaria per il trasporto di questi bambini che sono in difficoltà per una natalità difficile e poi per questo ecografo, perché può salvare veramente, soprattutto se utilizzato nei primi momenti della nascita, può salvare da tante situazioni, soprattutto non solo cardiaco, ma anche cerebrale, anche fisico in genere. Quindi sono due realtà che rispondono a un bisogno enorme. L'appello, io dico, è il modo più bello di fare Natale, quello di contribuire. Chiediamo alle persone di mettersi in contatto con la cura e con la RAI per ritirare i biglietti, perché presso il giornale Nuova Stagione, che è qui a Largo Donna Regina a Napoli, possono in qualche modo mettersi in contatto per ritirare gli inviti e venire all'auditorium della RAI il 9 dicembre. Vi aspettiamo. Durante la conferenza presentati i consueti appuntamenti natalizi del Cardinale, denominati Dialoghi con la Città, che quest'anno vedranno la partecipazione del mondo del lavoro, dell'arte e della scuola. E inoltre è stato presentato ai giornalisti il cammino giubilare per l'anno della Misericordia 2016, con l'apertura della Porta della Misericordia nella Chiesa Cattedrale il 13 dicembre, successivamente all'inaugurazione del Giubileo in Roma, prevista per l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione di Maria.